Un uomo e due donne, le Sbalbis Angels Le Sbalbis Angels E ora, ora, primo piano di Sbalbis Il momento è critico Che figo ragazzi Ragazzi è Sbalbis Un uomo Un perché, un desiderio di tutto il genere femminile Arrr No, sono le sue donne Sarà una notte lunga ragazze Con le Sbalbis Angels Ma c'è abbastanza Sbalbis per tutti Al cinema